In questi monasteri, in luoghi così, queste persone imparano a usare il potere del cuore non solo per curare i propri corpi, ma per curare le comunità e le famiglie con quel potere. Ora possiamo usarlo per curare le tensioni tra le nazioni. Se riusciamo a trovare il modo di sostenere il campo che collega tutte le cose, di aiutarlo a incentivare la collaborazione e a sostenere la comprensione e la tolleranza della diversità, è questo che ci servirà nel nuovo sistema economico, per risolvere il problema del clima, per gestire la sparizione delle risorse, per trovare ciò che le possa sostituire. Dobbiamo cambiare modo di pensare e i nostri antenati ci hanno mostrato come fare in luoghi come questo. Gli scienziati hanno iniziato a interessarsi a questi monaci. Questo giovane monaco ha degli elettrodi su tutta la testa, perché gli scienziati cercano di capire come faccia a raggiungere quello stato di coscienza, come ci riesca, come ci riesca. Ed ecco cosa sono riusciti a scoprire. Una delle cose che hanno notato, è molto interessante, è questa. Ogni volta che il cuore batte, che fa tum tum, tum tum, tum tum, l'intervallo tra ogni battito è diverso, è variabile. Più si invecchia, più il ritmo del cuore si fa regolare. Più si è giovani, più il ritmo varia. E come si chiama questa variabilità? Guardate qui. Vedete la differenza tra questo battito e quest'altro? Sono differenti. Anche questo battito e quest'altro sono diversi. Questa differenza si chiama variabilità della frequenza cardiaca, o VFC, che è la sigla usata per indicarla. Il motivo per cui è importante è perché più alta è la VFC, più è facile adattarsi al cambiamento. Quando si è giovani, quando si è dei bambini, la distanza tra i battiti varia sempre moltissimo, perché i più giovani sono anche i più resilienti nella vita. Maturando e invecchiando, la distanza tra i battiti si fa sempre più regolare e diventiamo meno resilienti. Perciò dovreste volere più VFC, più differenza tra un battito e l'altro. Vi risulta chiaro? La VFC, variazione della frequenza cardiaca, è la chiave per essere resilienti nella propria vita. Se c'è un momento in cui serve essere resilienti, è questo. Il mondo sta cambiando. Quello che conoscevamo non c'è più. È passato. E un mondo nuovo sta emergendo. Se restiamo intrappolati nel vecchio mondo, siamo destinati a soffrire. Se restiamo invischiati nei ricordi di com'era il mondo prima e aspettiamo che torni tutto normale, siamo in trappola. Ma una VFC alta ci aiuta a cambiare, ad aprirci alla novità. diremo, sì, il mondo sta cambiando. Il mondo del passato andava bene prima, ora non più. Ora c'è un nuovo mondo che ci aspetta. Ma serve avere un cuore resiliente per viverci. La resilienza inizia dunque nei nostri cuori e si estende a famiglia e comunità attraverso i nostri pensieri. Per questo ho voluto parlare subito di questo. Ieri sera, quindi tantissimo tempo fa, abbiamo iniziato a parlarne. Vi ho detto che in ogni momento, di ogni giornata, il vostro cuore manda dei segnali al vostro cervello. Le emozioni che il vostro cuore prova sono quelle che creano il segnale per il cervello. La qualità del segnale indica al cervello cosa deve rilasciare nel corpo. Quando il vostro cuore è in pace e vi sentite al sicuro, appagati, vi sentite felici e compassionevoli e provate gratitudine e apprezzamento, quel segnale dice al cervello che vivete in un mondo sicuro e il cervello rilascerà nel corpo ormoni anti-invecchiamento che vi faranno sembrare più giovani. È davvero forte la risposta immunitaria davanti a sentimenti di gratitudine e apprezzamento. Se il vostro cuore si convince che il mondo è spaventoso e pericoloso, il segnale sarà molto diverso. Guardate qui, il segnale tra cuore e cervello che indica frustrazione è fatto in questo modo, confuso e disordinato. Vedete la differenza con quello che indica apprezzamento? Ok. Perciò ecco qui, se il cuore comunica al cervello frustrazione, rabbia e gelosia, se avete una relazione finita male, un matrimonio infelice o un divorzio e provate dei sentimenti negativi, frustrazione, manderete questo segnale e vi farete soltanto del male. Se invece create la sensazione di essere al sicuro, questo è il giusto segnale. Questo è il segnale da inviare al vostro cervello. Quello che vedete qui è il segnale che dice al cervello di rilasciare sostanze positive per la vita, alti livelli di DHEA, il precursore di ogni ormone. Questo è il segnale, proprio qui. È il segnale che dice all'enzima telomerasi di aggiustare il DNA. È il segnale che dice a un tumore di iniziare a guarire. È il segnale direttamente collegato alla guarigione spontanea del cancro. È il segnale direttamente collegato a stati superiori di energia ed emozioni negli atleti. È la chiave, proprio qui. È interessante, perché è il segreto custodito per lungo tempo nelle tradizioni indigene. E le istruzioni, come ho accennato ieri sera, su come raggiungere questi stati, sono quelle che abbiamo perso nella Bibbia moderna. I Vangeli di Matteo o di Tommaso, per esempio, contenevano istruzioni molto precise, ma sono stati eliminati dalla Bibbia moderna. Bene. Cosa facciamo, quindi? Più aumentiamo la coerenza, più i nostri corpi si faranno resilienti. Come ci riusciamo? È proprio ciò che volevo sapere quando sono andato a parlare con quest'uomo. Questo è l'abate di un monastero tibetano. Quello che vedete sullo schermo è il nostro primo incontro. Gli sto chiedendo il permesso di entrare nella Biblioteca per capire cosa studiano i monaci. Ciò che ho imparato da questa esperienza ci riporta esattamente in questa stanza adesso. Voglio condividere con voi come si fa a fare questa esperienza. Ieri sera vi ho parlato dell'Istituto per la Matematica del Cuore. Qualcuno di voi ne avrà già sentito parlare, altri no. Si tratta di un'organizzazione di ricerca pionieristica che studia il potere del cuore umano in modi anticonvenzionali. Io non lavoro per questo istituto, voglio essere chiaro, ma conosco chi ci lavora da molto. Vi racconto come li ho conosciuti. Un giorno stavo tenendo una conferenza in una libreria a Santa Cruz, in California. Un gruppetto era arrivato dopo che la conferenza era già iniziata ed era rimasto in piedi in fondo invece di sedersi. Stavano tutti appoggiati al muro e mi fissavano. Alla fine della mia discussione, si sono avvicinati chiedendomi dove avessi imparato quelle cose sul cuore. Ho risposto, le ho imparate dagli indigeni e lette nei libri antichi. Perché volete saperlo? E mi hanno detto, devi venire con noi, visto che riguarda il cuore. C'era una piccola macchina rossa che aspettava fuori e insieme siamo usciti dalla porta e siamo saliti sull'auto nel cuore della notte percorrendo una strada molto tortuosa fino a una struttura in cima a una montagna a Santa Cruz che oggi è l'Istituto della Matematica del Cuore. Hanno detto, ciò che ha scoperto a modo suo lo stiamo scoprendo anche noi nei nostri laboratori. Dovremmo lavorare insieme. E io ho detto, sì, mi piacerebbe. Questo ci ha portati a un progetto che vorrei condividere con voi. È il primo progetto del suo genere. La prima iniziativa fondata su basi scientifiche e specificamente studiata per agevolare la diffusione di pace e cooperazione nel mondo. La coerenza personale è positiva, ma la coerenza globale è anche meglio. Il progetto si chiama iniziativa di coerenza globale ed è organizzato dall'Istituto di Matematica del Cuore. Ci tengo a sottolineare che non lavoro per l'Istituto, ma faccio parte dei consulenti scientifici del progetto, del comitato decisionale di questo progetto. Credo molto nel progetto e sento che può fare la differenza. Per questo ve ne sto parlando. La dichiarazione di intenti di questo progetto dice lo scopo dell'iniziativa di coerenza globale è di riunire milioni di persone con credo e coscienze diverse per smuovere la coscienza globale da caos e instabilità a equilibrio e collaborazione. È questa l'unica ragione per cui questo progetto esiste. Non è una costola di un altro progetto. È stato studiato apposta per creare coerenza in un tempo di caos. Nessuna organizzazione scientifica l'ha mai fatto prima. Il primo passo del progetto è stato progettare una rete di sensori attorno alla Terra che riferiscano agli scienziati quando la gente influenza il campo. Proprio come il computer ci ha mostrato la coerenza personale, i sensori della Terra ci parlano della coerenza globale. Bene, questo è l'aspetto del primissimo sensore progettato dagli scienziati. Era enorme e strano. Arrivava quasi a 1,3 metri. Ma la tecnologia è cambiata. Questo è il modello del nuovo sensore. Sul foglio il sensore ha questo aspetto. La prossima immagine che vedrete è l'aspetto del sensore una volta installato nel terreno. Perciò, invece di usare i satelliti per scoprire l'energia, questo progetto si avvale di sensori piantati nel terreno. Da un lato c'è lo schema, dall'altro l'aspetto effettivo. è il primo sensore progettato all'istituto. Al momento, i sensori sono ovunque nel mondo, anche in Arabia Saudita, che ha finanziato uno dei siti dove si trovano i sensori. Ogni giorno, i sensori inviano questo genere di dati. In 24 ore vengono raccolti dati come questo, a partire dalla mezzanotte di un giorno a quella del giorno seguente. I colori più brillanti indicano che la coscienza è molto attiva. Guardate, vedete come è attiva la coscienza lì e lì? Questi si riferiscono a un giorno del mese di dicembre. questo è il giorno di Natale quando la rete si è presa una vacanza. Bene. Ve ne sto parlando perché sappiate che un progetto esiste già e non va creato da capo. Proprio ora c'è un sensore nel nord della California, uno a New York, uno nel Regno Unito, un altro in Arabia Saudita e in Nuova Zelanda. Questa è la rete attuale. Quando sarà completata ci saranno anche più sensori. Una volta terminata la rete ce ne saranno in Cile, nelle Hawaii, in Alaska, in Brasile e Sud Africa, in Norvegia, in India e nella Corea del Sud. Questo una volta terminata la rete. si tratta di finanziamenti privati, perciò ci vuole tempo. Ma è intenzionale. Proprio perché sono privati, nessun governo può interferire con il progetto. È un sistema del tutto indipendente. Ora, questo sistema fa la stessa cosa di questo computer. Il computer ci dice quando non siamo coerenti. Ci racconta della relazione tra cuore e cervello. I sensori a terra ci raccontano della relazione tra cuore e magnetismo terrestre. quando le persone creano coerenza nei loro cuori, il campo magnetico terrestre risponde, come per l'11 settembre. Alla presenza di un campo coerente, le persone collaborano, lavorano insieme, fanno meno guerre e risolvono i loro problemi in modo pacifico. Questo è il valore della coerenza, il motivo per cui è così importante. è importante.